Allora siamo qua con la seconda puntata di questo format, un format che ricordiamo non ha un nome ma è un format utile. Il nostro super ospite di questa puntata è Ignazio Moser. Ciao, buongiorno. Ricordiamo solo cos'è questo format, è un format che non ha lo scopo di intervistare qualcuno ma lo scopo di scoprire meglio i programmi elettorali dei diversi partiti per arrivare al 25 settembre a votare un po' più consapevolmente e lo facciamo umiliando il nostro quale di turno. E' soffritto di tenermi in difficoltà, ringrazio anche io, è sempre un amico. Comunque complimenti al coraggio perché comunque ci vuole coraggio per mettersi in gioco. Pareggio, pareggio. Partiamo dallo ius scole, quindi stiamo parlando di istruzione, sistema scolastico, queste cose. Cittadinanza. Ah ok, perfetto, già partiamo. Benissimo, buongiorno a tutti. Partiti di scolpire giusto. In realtà allora mi difendo dicendo che non facevo latino a scuola. Va bene. In cosa consiste la proposta degli scolti? Ho quattro opzioni. Dare la cittadinanza a chi frequenta le scuole in Italia, in generale. Dare la cittadinanza a chi nasce sul suolo italiano e frequenta le scuole italiane. Dare la cittadinanza a chi ha completato almeno un ciclo di studi in Italia. Dare la cittadinanza a chi ha portato a termine la maturità in Italia. Allora partiamo dal fatto che non so la risposta, però diciamo un danno per ragionamenti. Complimenti per l'onestà. E poi però ci possiamo arrivare. Esatto, penso che... beh partiamo dal fatto comunque che secondo me è uno che studia in Italia, quindi diciamo che quantomeno completi un ciclo sono cinque anni giusto? Ciclo scolastico su un termine di cinque anni. Ammesso non concesso che la scuola dovrebbe formarti culturalmente per vivere in uno stato. Teoria. Diciamo che secondo me potrebbe essere quello del ciclo scolastico. Hai fatto un ottimo ragionamento ed è giusto. È giusto. 40 casi. La proposta del Partito Democratico su Uscole consiste nel dare la cittadinanza a chi ha fatto almeno un ciclo di studi in Italia, quindi cinque anni. Oggi nati in Italia da genitori non italiani e regolarmente residenti possono diventare italiani se, oltre a essere stati registrati ad anagrafe, hanno anche restituto in Italia legalmente, ininterrottamente e fino alla maggior età... Quindi dovrò fare tutte le scuole dall'anagrafe? No, no, no. Nascere qua e fare le scuole? Fino ai 16 anni ora. Sì, fino ai 16 anni tra l'altro c'è una proposta sempre del Partito Democratico di allungarlo fino ai 18 e di anticiparlo dai 3. Comunque, per come funziona adesso, dopo aver compiuto i 18 anni, bisogna presentare al Comune di Residenza una dichiarazione che vuole ottenere la cittadinanza italiana. Questa dichiarazione va presentata entro il compimento del 19, quindi è un po' un vincolo. Sappiamo che ci sono un sacco di difficoltà anche burocratica ad ottenerla. Beh, o ti è andata di culo. Abbiamo imparato qualcosa. Ti è andata di culo. Passiamo all'altra sponda politica. Ok. Silvio Berlusconi è uno a cui piace dare i numeri, no? Un milione di posti di lavoro, ti ricordi? Questa volta fa un numero su più più alberi da piantare. Quanti alberi in più ha proposto di piantare Silvio Berlusconi nel nostro paese? A. 100k. B. 500k. C. 1 milione. D. 10 milioni. Allora, anche questo, diciamo che il numero esatto non lo so, però andando per ragionamento, 100k non esistono, cioè non è come non piantarli. Sono un po' pochi, forse. I alberi, non penso che sia una cosa che cambierebbe le sorte della nostra situazione ambientale. Conoscendo il caro vecchio Silvio che ha questa passione per i milioni, direi un milione. Un milione, cifra tolla, facciamo un milione. Un milione. Un milione. Un milione. È giusto anche questo, compendi. Bravissimo. Ogni volta lo schiaffo quando è giusto. Poi invece se sbacchi e schiaffo. Allora, tra l'altro l'ho puntualizzato perché c'è stata un po' la polemica, perché lui ha detto, vogliamo un milione di alberi in più in Italia. E tra l'altro il PNRR prevede già milioni di alberi piantati in più in Italia e quindi lui ha dovuto puntualizzare che è un milione aggiuntivo. Infatti il PNRR stanzia 330 milioni di euro per piantare un totale di 6,6 milioni di alberi in 14 città metropolitane. Bravo Ignazio, andiamo avanti. Parliamo di salario minimo. Ok. A quanto ammonta la proposta di salario minimo del Movimento 5 Stelle? 8 euro all'ora, 8,50 all'ora, 9 euro all'ora, 10 euro all'ora. Difficile, eh? Allora, so che c'erano due correnti di pensiero, una 10 o una 9. Però sinceramente non mi ricordo quale sia quella 9. Cioè se il Movimento 5 Stelle è la 9 e il PD è la 10 o se... quindi direi 10. No. No. Il Movimento 5 Stelle vorrebbe portare il salario minimo a 9 euro l'ordi l'ora. Potremmo fare anche il Ciclaconda. Potremmo fare impianti. Spostato Silvio avrebbe fatto 10. No, 10 anche l'ordi. Sempre di salario minimo parlano anche sinistra italiana e Europa Verde nel loro programma. Loro sono loro a dire 10 euro l'ordi l'ora. Azione Italia Viva non hanno inserito il salario minimo nel loro programma ma Calenda ha più volte aperto questa possibilità dicendo che nessuno dovrebbe guagnare meno di 9 euro all'ora. Bene, finalmente abbiamo avuto il primo errore. Ma quando la candidatura di Ignazio? Fino di tutto partiamo al salario minimo a 25. Bravo. Poi a coperture ci pensavo. Tanto tutti i partiti hanno fatto le proposte così. Mi sembra che sia circa il 96 per cento delle proposte nei programmi elettorali non indicano le coperture. No, non indicano le coperture. Cioè dicono facciamo questo, facciamo quest'altro ma non dicono come fare i soldi. Come si chiama la legge contro l'omotransfobia presente nel programma di azioni Italia Viva? DDL Zan, DDL Scalfarotto, DDL Richetti. DDL Zan è stato uno dei temi più caldi. Volevo capirlo meglio. Quindi DDL Zan sicuramente non è per il democratico. E DDL Scalfarotto era stato Renzi o Calenda. Renzi? Renzi. Renzi. Il terzo non lo so però non ho mai stile a parlare quindi non penso che sia importante. Siccome non ne ho mai proposto un... Sei molto più preparato di quello che pensassi mio caro. Era una domanda tra bocchetto. Era una domanda tra bocchetto. E' il nostro inizio. Non mi è caduto. Non mi è caduto. Cazzo qua speravo di farvi fare... Invece niente. Bravo. Il DDL Scalfarotto è stato proposto da Renzi di Taglia Viva ma non l'hanno messo nel programma. Mandaggia. Vorrei dire che dovrò essere più... Parliamo di un argomento che piace a tutti. Cioè i soldi, il cash. A quanto vorrebbero portare il tetto con cui si può pagare in contanti, Lega e Forza Italia? A. 1000 euro. B. 3000 euro. C. 4000 euro. D. 10.000 euro. So che continuano a fare un casino questo tetto. E l'altro la passano... Le montagne russ. Adesso è a 2000, no? Adesso è a 2000, ma dal 1 gennaio diventa 1000. Ok. Quindi Sardini e Berlusconi sarebbero i due, diciamo... ma conoscendo un po' quello politico, magari potrebbero alzarlo un po', non lo so loro sono sicuramente a favore di contante, dicono che non sia una misura efficace la principale motivazione per abbassare i limiti dei pagamenti di cash e per contrastare l'evasione, loro dicono che non si è dimostrato che combatte l'evasione dicono di essere a favore delle libertà e quindi dicono di alzarlo addirittura a 10.000 euro a 10.000? mi sono molto a favore delle libertà, però mi chiedo anche chi è che deve magari 10.000 euro cash mi sembra un po'... mi sembra un po' un problema, sinceramente tu di solito con quanto giri di cash? io di solito un 30.40 sai mai l'imprevisto eh si si, può capitare qualcosa magari ti deve raccompartire la macchina pocket more Inizio ti sei poi riconosciuto un premio ok ultima domanda ok sono pronto un argomento serio di cui si è parlato abbastanza poco c'è un partito che propone di proporre una figura una figura di assistente all'emotività all'affettività e alla sessualità per le persone con disabilità è una roba importante è una proposta del Movimento 5 Stelle del partito democratico di più Europa oppure di Italia Viva non spiaceciato no 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 qui devo dire che proprio c'è nel senso più che altro poi ci sono tutti e quattro diciamo del filo lingua che è proprio una parte nera a questa proposta politica è un po' un tirano a caso sono sincera ma non è facile anche perché se ne è parlato poco infatti non ho mai sentito parlare di questa cosa a mal in cuore anche devo dire perché eh boh potrei dirtene uno come l'altro un partito democratico no eh finalmente cazzo Italia Viva finalmente no vai avanti no Italia Viva è un Movimento 5 Stelle no no più Europa e allora ultimo più Europa la proposta è molto bella tra l'altro se mi posso permettere consiste nella creazione e regolamentazione di una figura che si occupi della sfera emotiva e sessuale dei disabili e la ripresa più Europa è una sorta di sostegno psicologico diciamo nel mondo si per le persone che hanno bisogno che da soli non riescono ad essere mai si può parlare di questa cosa quindi è molto figlio sono molto sincero proprio l'ultimo che ho incolto infatti sono molto contento di esserci riuscito però complimenti ne vado abbacchiata no no te ne vai a testa altissima la sei chiamata molto molto bene bravissimo grazie grazie Igna di averci aiutato meglio a capire i programmi e ci vediamo con la prossima puntata ciao a tutti grazie grazie grazie